585, mi ha fatto il regalo di compleanno, adesso mi devi fare ancora un altro regalo, dai, forza, dai applauso, dai, incitamento, dai, dai tutti quanti, dai! Grazie! Grazie! 585! Ve lo avevo detto, questa sede si fa storia, si fa storia, con questo salto siamo terzi nel mondo, dai! Grazie!